Dal Vangelo secondo Giovanni Gesù disse loro di nuovo pace a voi Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi Detto questo soffiò su di loro e disse Ricevete lo Spirito Santo A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati Tommaso, uno dei dodici chiamato Divimo Non era con loro quando venne Gesù Gli dicevano gli altri discepoli Abbiamo visto il Signore Ma egli disse loro Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi E non metto il mio dito nel segno dei chiodi E non metto la mia mano nel suo fianco Io non credo Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa E c'era con loro anche Tommaso Venne Gesù a porte chiuse Stette in mezzo e disse Pace a voi Poi disse a Tommaso Metti qui il tuo dito E guarda le mie mani Tendi la tua mano E mettila nel mio fianco E non essere incredulo ma credente Gli rispose Tommaso Mio Signore e mio Dio Gesù gli disse Perché mi hai veduto Tu hai creduto Beati quelli che non hanno visto E hanno creduto Una buona Pasqua a tutti Il brano evangelico che abbiamo appena ascoltato Ci ha raccontato due incontri del risorto con i discepoli Primo è avvenuto la sera del giorno di Pasqua Il secondo otto giorni dopo Nel primo incontro il risorto si trova in mezzo ai discepoli Ma ne mancano due Ne manca colui che ha consegnato il maestro Giuda E manca uno dei discepoli Che poi lo ritroviamo otto giorni dopo Tommaso Vediamo i personaggi di questo primo incontro Sono anzitutto i discepoli E poi i giudei I giudei nella Accezione dell'Evangelista Giovanni Rappresentano il mondo dell'incredulità Che si trova fuori di questa casa Dove sono riuniti i discepoli E questi discepoli Hanno le porte sbarrate Perché non vogliono avere nessun contatto Con il mondo dell'incredulità Che incute loro paura E questo più che cronaca di ciò che è accaduto nel giorno di Pasqua Ecco perché i giudei non avevano alcuna intenzione di far del male ai discepoli Rappresenta la nostra realtà di chiesa Che può arrivare a chiudersi al mondo dell'incredulità Che sta aspettando invece un messaggio di speranza e di gioia Sta attendendo la luce che deve uscire da questa comunità dei discepoli Come mai sono chiusi e hanno paura? Perché non hanno ancora incontrato il risorto Non hanno ancora capito che una vita donata per amore Entra nel mondo di Dio Non è persa Loro non hanno fatto questa esperienza Allora hanno paura del mondo dell'incredulità Che possa fare loro del male E la paura è un pessimo consigliere Perché rende sospettosi di tutto E può far diventare aggressivi, intolleranti, fanatici Quando si ha paura non si dialoga più Si comincia a urlare le proprie convinzioni E quando si alza troppo la voce E non si dialoga Non si fa una proposta convinta della propria fede Vuol dire che in fondo non si è poi così sicuri che sia vera Colui che è convinto della scelta che ha fatto di seguire Gesù di Nazareth Non alza la voce Propone la sua esperienza di vita La sua adesione a Cristo E mostra come questa scelta sia quella che ti dona gioia Ma per arrivare a non aver paura Tu devi aver incontrato il risorto Proviamo ad accennare un po' queste paure Che sono state presenti nella storia della Chiesa Lungo i secoli che ci hanno fatto tanto male Pensiamo alla paura della scienza Nel tempo di Galileo Quando si pensava che la scienza distruggesse poi la fede No, il cristiano non ha paura della verità La verità viene da Dio La nostra mente deve essere sazia e quando c'è la verità mai va rifiutata La paura dell'evoluzionismo La paura delle scoperte archeologiche che mettevano in discussione una interpretazione fondamentalista della Bibbia Quando si è scoperto che il racconto del diluvio universale era stato scritto già mille anni prima del racconto biblico Si è cominciato ad avere paura Adesso la verità biblica viene messa in discussione No, della verità non c'è mai da aver paura La paura del rinnovamento La paura dell'emancipazione della donna, della classe operaia Li ricordiamo, questi momenti di paura nella Chiesa E la paura ha dato dei pessimi risultati perché poi ha portato ad arrocamenti e a chiusure E il mondo non ha più potuto accogliere quella luce, quel messaggio che Cristo aveva detto che la sua Chiesa doveva poi portare nel mondo dell'incredulità In questo contesto di paura venne Gesù e stette in piedi in mezzo ai discepoli Non si dice che è apparso Mai nel Vangelo di Giovanni si dice che è apparso Gesù No, si dice che sta in mezzo ai discepoli Vuol dire che c'è una nuova presenza Non è più la presenza materiale, fisica Perché questa non è possibile Ma è una presenza del risorto con la comunità dei suoi discepoli Ed è una presenza che è molto più forte della precedente Perché quella era condizionata a tutti i limiti della nostra condizione umana Il giorno in cui Gesù avesse la febbre, fosse ammalato Perché questo accade a un uomo E non poteva muoversi Rimaneva in un certo contesto Nel mondo dei risorti tutti questi limiti sono caduti E quindi è il risorto che è presente in ogni comunità del mondo Perché non ci sono più i limiti È presente in Italia da noi come è presente nelle comunità dell'Australia o dell'America Non c'è più alcun limite stette in mezzo a loro E dobbiamo prendere coscienza di questa presenza senza limiti del risorto Altrimenti veniamo colti da paure E dice il risorto mostrando le mani e il costato Ecco la mia storia E i discepoli gioiscono vedendo il Signore Non è che sia apparso Lo vedono in questa nuova presenza dentro la comunità Il dettaglio con il quale Gesù si fa riconoscere Mostra le mani e il costato Un uomo non viene riconosciuto dalle mani o dal costato Viene riconosciuto dal volto Come mai Gesù mostra le mani e il costato E c'è il pericolo Che quelle ferite nelle mani e nel costato Vengono considerate come un brutto momento da dimenticare La risurrezione avrebbe dovuto cancellare quelle ferite Invece Gesù le presenta come segno della sua identità Ecco chi sono io Sono colui che ha avuto le mani inchiodate per amore E dal cui costato, dal cui cuore E' uscito lo spirito, la vita divina Che è stata riversata sull'umanità Le mani anzitutto Le mani sono le mani di Dio Quelle che lui invita a contemplare Nelle mani di Dio si parla nell'Antico Testamento In genere quando si dice cadere nelle mani di Dio E' un senso positivo Però ci sono anche dei testi che ci parlano Di cadere nelle mani di Dio Nel senso di castigo Anche dei malvagi Per esempio La lettera agli ebrei Dice E' terribile cadere nelle mani del Dio vivente E' un'espressione molto forte Sta parlando degli apostati E si tratta di un linguaggio tipico Delle omelie rabbiniche Che volevano mettere in guardia Da un pericolo molto grande E per un cristiano E' quella dell'apostasia Di rinnegare Cristo Ecco quindi questa immagine Delle mani di Dio Che castigano Bene Gesù mostra le mani di Dio Quelle mani che noi abbiamo contemplato Lungo la vita pubblica Che cosa hanno fatto queste mani di Gesù di Nazareth Che alla fine poi verranno inchiodate Lo sfideranno a scendere dalla croce E avrebbero creduto in lui Se avesse mostrato con quelle mani Una forza che distruggeva i suoi nemici Sarebbe stata però la sconfitta Per Gesù di Nazareth Perché non è venuto a testimoniare questa forza E' venuto a testimoniare la forza dell'amore Una forza che non può essere sconfitta Da nessun odio Da nessuna nemicizia Le mani di Gesù Hanno compiuto prodigi di amore Gesù stendeva la mano su un lebroso Accarezzava il lebroso Gesù curava con le sue mani I ciechi Pietro quando stava per affondare Gesù stende la mano Lo tira fuori da quelle acque Che rappresentano il mondo della morte E Cristo con quelle mani Tira fuori verso la vita Quelle mani che hanno accarezzato i bambini Gesù che prende i bambini tra le braccia Quelle mani che lui impiegava per guarire Quelle mani che a Betania lui alzerà per benedire E poi lo ricordiamo Cos'è capitato nell'ultima cena Quelle mani che hanno lavato i piedi dei discepoli Non hanno compiuto altro che opere di amore Ecco cosa significa l'identità di Gesù Quelle ferite non scompariranno mai Perché sono la sua identità E diciamolo anche Le mani rappresentano l'opera dell'uomo È un invito al discepolo a mostrare le mani Un giorno quando noi ci presenteremo dal Padre del Cielo Non ci chiederà quante parole, cosa abbiamo detto Ci chiederà fammi vedere le mani Se hanno compiuto opere di amore Lui riconoscerà quelle mani come quelle del suo unigenito Perché hanno amato, hanno accarezzato il povero, gli ultimi Hanno lavato i piedi a coloro che avevano bisogno di essere serviti Bene, ci riconoscerà come figli Perché anche noi verremo riconosciuti nell'identità di figli attraverso le mani E poi il costato Il ricordo è ciò che l'Evangelista Giovanni ha raccontato L'evento del Calvario quando è stato aperto Il costato di Cristo ed è uscito sangue e acqua Il sangue è il segno della vita L'acqua anche, la vita Quella di cui Gesù ha parlato alla Samaritana È il dono della vita divina che Gesù ha riversato sull'umanità Proprio al termine della sua esistenza Quando ha compiuto tutta la sua missione Eccoci, quel costato trafitto è il segno della sua identità Perché è venuto in questo mondo proprio per donare la vita dell'Eterno In conseguenza di tutto questo la gioia I discepoli gioirono al vedere il Signore La gioia vera la sperimenta chi ha incontrato il risorto Chi ha capito che la vita donata non viene cancellata Ma rimane eternamente nel mondo di Dio La tristezza invece nasce sempre Quando si considera il dono della vita come un fallimento Che è la concezione opposta al messaggio di Cristo Gesù invia i discepoli in missione E dice, come il Padre ha mandato me Io mando voi E poi soffiò sui discepoli Il termine greco è Enfusau È un verbo raro Significa soffiare dentro Vuol dire mettere il suo spirito La sua forza di amore nei discepoli Il gesto del soffiare È soltanto un simbolo Del dono Di questa forza divina Che è quella che ha portato Gesù a donare la vita È una cosa che adesso è comunicata a tutti i discepoli E sono inviati nel mondo Devono uscire da quella casa Nella quale si sono rinchiusi Hanno sbarrato le porte Devono andare in mezzo al mondo Anche se sanno e devono saperlo Che sono agnelli in mezzo ai lupi E dice Gesù A coloro a cui rimetterete i peccati Saranno rimessi A coloro che li ritenete Saranno ritenuti Che cosa significa questa espressione? Il concilio di Trento ha detto che Gesù ha istituito Il sacramento della penitenza Ed è vero Il sacramento della penitenza è uno dei modi Per distruggere il peccato E per tornare a sintonizzarsi con la vita divina Ma qui però Queste parole di Gesù ai discepoli Sono rivolte non ai preti soltanto Ma a ogni discepolo E ogni discepolo adesso che riceve Avendo ricevuto lo spirito Riceve la missione di rimettere il peccato E il termine che viene impiegato è affiemi Che significa lasciare, abbandonare Fare un taglio Divorziare da una vita di peccato Allora qual è il compito dei discepoli? Il compito dei discepoli Quando incontrano qualcuno Che sulla strada sbagliata Vorrebbe giungere alla gioia Alla felicità Ma ha sbagliato strada Il discepolo deve far sì Che questa strada venga abbandonata Ecco la remissione del peccato La fiemi L'allontanamento dal peccato Ogni discepolo ha questo compito Far sì che venga abbandonata La strada sbagliata E se il discepolo non riesce O non compie questa missione Trattiene la persona Sul cammino errato Questa ci rimane E quindi è enorme la responsabilità Che Gesù ha affidato alla comunità cristiana Perché è compito di ogni discepolo Far sì che la vita di peccato Sia abbandonata E si faccia la scelta Di una vita in sintonia Con la proposta di Cristo Quindi non c'è soltanto La soluzione nel sacramento Della penitenza Qui è a ogni discepolo Che ha dato questa inconvenza E viene data Con questo spirito Che è quello di Cristo Che è comunicato a tutti i discepoli Non soltanto ai preti Nella seconda parte Del brano evangelico Viene narrato l'incontro Con i discepoli Otto giorni dopo Presente Tommaso Questo Tommaso Ha portato via tutte le colpe Dall'incredulità Tanto che c'è anche il proverbio Incredulo come Tommaso Mettiamo un po' le cose a posto L'evangelista Giovanni Ci presenta molti personaggi Nel suo Vangelo E sono persone molto concrete Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni Tommaso, Filippo Ma tutti costoro Diventano anche dei simboli Che indicano diversi modi Di rapportarsi con il Maestro E Tommaso viene chiamato Quando viene citato Nel Vangelo di Giovanni Viene sempre aggiunto Un soprannome Didymos Che significa gemello Tommaso Detto gemello Gemello Come mai ci insiste tanto Su questo gemello È un invito A riconoscerci gemelli Di Tommaso Perché Tommaso È un personaggio anche simpatico Lui non aveva paura Lui non temeva il mondo Dell'incredulità Lui era fuori Nel giorno di Pasqua Non aveva paura Come gli altri Però questo Tommaso Ha fatto anche degli errori Ha fatto anche degli errori Non è l'unico Incredulo Perché Tutti gli evangelistici Dicono Che i discepoli Hanno avuto dei dubbi Nella Pasqua Ricordiamo In Marco Gesù Rimprovera i discepoli Per la loro incredulità L'evangelista Matteo Ci dice al termine Del suo Vangelo Che qualcuno ancora dubitava Tutti hanno avuto dei dubbi E per arrivare Per arrivare alla fede Nella risurrezione Bisogna passare attraverso il dubbio Proprio per non confondere Risurrezione Con Rianimazione Riprendere una vita materiale Come quella che abbiamo qui noi oggi Tommaso 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 Ha cominciato A fare degli errori Quando Non è stato Con la comunità Lui Si è allontanato Dalla comunità Come mai Questo È successo Tommaso È nostro gemello Diciamo anche Che Non è gemello Di chi Nella comunità Cristiana Comincia a sentirsi Superiore Disprezza gli altri Qui sono tutti Dei corrotti Io sono Quello che Vuole Staccarsi Dalla comunità Perché Non mi riconosco Non è gemello Tommaso Di queste persone Il vero cristiano Vive anche In una comunità Che è buona È santa Ma è anche Peccatrice E si sente Membro Di questa comunità Quando A me Personalmente Qualcuno Denuncia Gli scandali Che ci sono Nella chiesa Non dico Io non c'entro No Questa è La mia chiesa Io sono Membro Di questa comunità Dove Esiste anche Questo E non c'è Però Soltanto Questo Ci sono Delle opere Di amore Straordinaria Anche compiute Dai miei fratelli Di fede E quindi Tommaso Non è gemello Di chi Diventa ate O di chi Abbraccia Un'altra religione Disprezzando Gli altri Non è gemello Tommaso Però è gemello Di chi Si sente Anche un po' Scoraggiato E deluso Pensiamo A certi Scandali Che ci sono Nella chiesa Che sono emersi Anche recentemente Che hanno Delle conseguenze Devastanti È gemello Anche Di chi Può essere Deluso Della struttura Ecclesiale Magari Compromessa Politicamente Col potere Una Una struttura Ecclesiale Paludata Magari Dove ci sono Delle ricchezze Trionfalista Un po' Medioevale E qualcuno Può essere Stanco Di questa Struttura Ecclesiale Oppure Di una chiesa Che è Incapace Di rispondere Alle provocazioni Dell'uomo D'oggi Oppure Anche Può essere Stanco Dei banali Litigi Delle incomprensioni Che ci sono Nella propria Parrocchia Con il proprio Parroco Sono i limiti E Ci si può Allontanare Magari Anche per un momento Dalla comunità A causa Di queste Cose Tommaso Se ne è andato Momentaneamente Ma otto giorni dopo Lui si ritrova Con i discepoli Si ritrova Con i discepoli E Di nuovo Viene Gesù Viene Estette In mezzo A loro Di nuovo Di nuovo Non si parla Di apparizione Ma il richiamo Del risorto Che è visto Dai discepoli E questa volta Con loro C'è anche Tommaso Anche lui Anche lui È arrivato Dopo il suo Momento Di dubbio E il dubbio Derivava poi Anche dal fatto Che voleva fare L'esperienza Del risorto Ma concreta Materiale Verificabile Verificabile Razionale E in questo È nostro gemello Tommaso Perché anche noi Siamo tentati Di pretendere Che ci venga Dimostrata La risurrezione Con prove Inequivocabili Non è possibile Nemmeno Dio Lo può fare Perché noi Siamo in un corpo Materiale E si tratta Di un mondo Che è quello Di Dio Per fare L'esperienza Del risorto Noi dovremmo Entrare Nello Sheol E entrare Poi nel mondo Di Dio Allora facciamo L'esperienza Dei risorti Ma in questo mondo In questa condizione Materiale Non è possibile Avere la risposta Che Tommaso Pretendeva Di avere Il risorto Però Si manifesta Anche A Tommaso E il risorto Dice Non continuare A diventare Incredulo Ma credente E l'invito Fatto a Tommaso Ad aprire Gli occhi Non dice Il Vangelo Che ha toccato Le immagini Dei pittori Non riflettono Quello che L'Evangelista Dice Tommaso Non ha Toccato Il costato Del risorto Per verificare No Anche Tommaso È entrato In quella fede In quella luce Che è quella Del credente E che viene dal cielo Non è più una luce Materiale È uno sguardo Materiale E Tommaso Fa la sua professione Di fede Bellissima Signore mio E Dio mio Nessuno Finora Aveva chiamato Gesù Con questa professione Di fede Signore E Dio Proprio sulla bocca Di Tommaso Il nostro gemello È messa Questa professione Di fede Che è quella Della comunità Cristiana Primitiva Direi che Tommaso Dopo tutto quello Che hanno raccontato Sul suo conto Meritava Che fosse posta Proprio sulla sua bocca La professione Di fede Che è quella Di ogni discepolo Che si è lasciato Aprire gli occhi Dalla luce Della Pasqua Auguro a tutti Una buona domenica Di Pasqua 는데 Che si è lasciato